La cultura sconfigge tutto. Se sai, non fai. Se conosci, non sbagli. È tutta una questione di sapere. Dobbiamo far crescere di più la cultura delle persone per avere finalmente la pace. Ma siamo proprio sicuri che sia così? Siamo proprio sicuri che funzioni? Il caffè è più buono se ristretto. Forte sì, ma non troppo lungo. Se vuoi prenderti il tempo per gustarti una brioche, molto meglio il cappuccino. Sempre forte, ma pacato. Un cappuccino con Paolo, quando il tempo di un caffè non basta più. Sempre con Paolo Pugni. C'è questa fissazione che basta sapere per non fare. Basta sapere per fare. Se sai, va tutto bene. E quindi aumentiamo la cultura, aumentiamo l'insegnamento, aumentiamo l'indottrinamento, aumentiamo la follia di non capire cosa sia la persona. Non è che voglia negare l'importanza della cultura. C'è un fondamento nel fatto che più so, più vedo da un punto di vista differente la realtà che mi circonda. E quindi forse riesco a essere più capace di comprendere e di ascoltare. Ma stiamo completamente dimenticandoci di quello che è la persona umana. Ed è la follia del mondo di oggi. Una delle tante follie. Io insisto spesso su questo tema della coerenza. Ho parlato la scorsa settimana dei 12 giurati. Anche in quel film c'è un meraviglioso esempio, più di uno per la verità, ma di totale incoerenza. Di come la forza del mio giudizio è talmente radicata in me che manipolo quello che ascolto e do significati diversi alle parole che ascolto perché sono incoerente, perché alla fine non metto insieme le cose. Certo, la cultura produce ricchezza. C'è una ricchezza che sta nella consapevolezza, nell'avere coscienza di come stanno le cose. Ma noi ci stiamo dimenticando che l'azione non dipende da ciò che so, ma da ciò che faccio. Ed è una costante del mondo moderno dimenticare questo aspetto. Dimenticare l'antropologia, dimenticare quello che è veramente l'uomo, dimenticare come ci siano dei meccanismi nel cuore dell'uomo che dipendono non soltanto da quello che so, ma da quello che voglio. Ed è una potenza forse superiore alla conoscenza, che trova il radicamento, anche se volete, nell'egoismo. Io consiglio a tutti, a prescindere da quelli che sono i valori, le credenze, quello che per voi è significativo, di leggere l'arte della buona battaglia di Fabio Rosini. Perché al di là del fatto che sia evidentemente, evidentemente, poiché è scritto da un sacerdote, un libro che ha un forte taglio religioso, ma c'è una tale forza nell'esaminare quello che si agita nel cuore dell'uomo che va bene anche se non credi, ci mancherebbe altro. Perché quei meccanismi lì non sono meccanismi che dipendono dal fatto che uno abbia una fede o non ce l'abbia, ma dal fatto che uno è uomo. Poi potrai dissentire su alcune origini di quelle mancanze, proprio nel senso letterale del termine, manca qualcosa per ottenere quello che voglio, manca qualcosa per essere veramente uomo. Ma non puoi negarle. Non puoi negare che nel nostro cuore si agitino quelle tempeste che ci riducono in quel modo. E non mi basta conoscere le cose per farle. Non mi basta conoscere cosa non devo fare per non farlo, perché le leggi le conosciamo tutti benissimo. Non possiamo dire che manca conoscenza della legge. Alcuni valori fondamentali li conosciamo tutti benissimo. Non possiamo dire che non li conosciamo. E però ci comportiamo in maniera diversa. Anche perché se io estendo, sempre mantenendo la coerenza, il pensiero di chi dice che se tu sapessi non faresti, allora devo dire che ci sono alcune culture, alcune civiltà, e qui si palesa lo spettro dello scontro di civiltà che qualcuno nega fortemente, vuole negare fortemente, che alla fine ci viziano alla radice, ci danno una lettura della realtà che non è corretta. E allora di nuovo dovremmo chiederci qual è la cosa che devo sapere veramente. Una famosa giovane attivista del mondo ecologico è stata fortemente messa in discussione nella settimana recente per delle posizioni che alcuni sono state confrontate scientificamente, mettendo i testi uno di fianco all'altro e trovate molto simili a quelle del manifesto nazista contro la razza ebraica. E uso il termine razza evidentemente in quella connotazione con nessun tipo di sfumatura negativa. Contro la nazione, il popolo ebraico, se volete usare questo termine. Ma quello che ti devo dire è che sono proprio alla base del razzismo. Ho utilizzato questo vocabolo apposta. Non si può dire che la signorina in esame non conosca, non sappia, non abbia avuto l'occasione di studiare, non abbia avuto l'occasione di essere formata dentro una certa cultura che è quella del mainstream, quella che riconosce a tutti alcuni diritti, che riconosce a tutti la necessità di essere accolti. E allora com'è possibile che se ne esca con delle affermazioni che sono state fortemente criticate anche da chi gli è vicino, chi le è vicino e che ha riconosciuto in queste esternazioni delle connotazioni naziste e anche di nuovo uso questo termine della pienezza del suo essere. Perché non basta conoscere, perché ci sono altre intenzioni che muovono il nostro cuore, ci sono altre forze che ci spingono ad agire in una maniera diversa. La cultura conta, ma non basta. Ci sono tante altre forze che ci governano. E finché non prenderemo atto del fatto che non basta sapere, ma bisogna anche saper fare e soprattutto saper essere, e quindi riterremo che con l'insegnamento, cioè la trasmissione di nozioni, possiamo plasmare le coscienze, andremo incontro a una disfatta epica. E se questo vale nell'ambito sociale, vale anche nell'ambito professionale. Non basta trasmettere conoscenze per pensare che le persone cambino atteggiamento e quindi cambino comportamento. Buon cappuccino a tutti! Un cappuccino con Paolo va in onda grazie a Podbits, il team che ti aiuta a tradurre le tue idee in podcast e la tua voce in libri. Trovi tutti i caffè e i cappuccini con Paolo sul canale Telegram telegram.me slash caffè con Paolo senza l'articolo mi raccomando Caffè con Paolo Sempre su Telegram puoi contattarmi telegram.me slash paolo pugni Grazie e alla prossima puntata! Grazie a tutti!